Avere un lavoro, essere costretti a lasciare il lavoro per poter avere un reddito, per poter mandare la famiglia, è tragica questa scelta. Però l'hanno fatta perché non sapevano come fare. Il lavoro è un diritto pagare, è un dovere. Questo è il grido lanciato dai dipendenti della Mabo, l'azienda di prefabbricati del Casentino. I lavoratori sono senza stipendio da cinque mesi. La Mabo, azienda che produceva principalmente prefabbricati edilizia, aveva una storia quarantennale nella vallata casentinese, nello stabilimento di Bibiena, ha dato lavoro anche a 300 operai. Poi la crisi, il concordato, la vendita dei rami d'azienda. Nel 2016 la Gran Ducato Edilizia ed Energia, ad aver affettato il ramo d'azienda della Mabo prefabbricati. Un anno e mezzo di lavoro e pagamenti regolari, poi lo stop. Una famiglia a carico, non si riscuote, il lavoro è quello che è, si sa tutti come sono i contratti d'assunzione oggigiorno, anche a settimane per volta. Quindi deve capire che la situazione è complicata e non vedo grandi sbocchi futuristici. Nel senso che noi si rischia di perdere tutti i nostri soldi, perché va detto le cose come stanno, ed essere senza posto di lavoro. L'azienda ha perso liquidità con la mancata riscossione delle commesse prodotte per il Covic, il consorzio a cui è stata affidata la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Genova, il terzo valico, guidato dalla Salini in Pregilo, l'azienda che dovrà anche ricostruire il ponte Morandi a Genova. Le opere sono state consegnate e fatturate, ma i pagamenti non sono mai avvenuti. Quindi loro a oggi hanno queste commesse che hanno venduto quest'anno, fatturato quest'anno, hanno rilavorato quest'anno, perché dopo due anni prefabriati giustamente erano da rendere vendibili, e a oggi anche loro non pagano perché comunque l'azienda è in difficoltà. C'è questo gatto che si morde la coda, io sono in difficoltà e io non ti pago perché tu sei in difficoltà. Le scuse per dire che non si paga ce ne sono tante, non si sa come funziona il sistema, però chiaramente un'azienda deve essere al minimo solida, deve avere un minimo di possibilità per pagare i lavoratori, questa è la cosa essenziale. Quindi il nostro problema adesso è questo qui. Noi abbiamo scritto questa lettera al Cociv appellandosi all'articolo 1686 del Corso Civile della responsabilità in solido del committente nei confronti appunto del fornitore, quindi i lavoratori che non sono pagati si possono rivolgere direttamente al committente. Ci hanno risposto, il Cociv ha già risposto dicendo che per appalti di fornitura loro non hanno responsabilità in solido, quindi l'azienda di fatto ha detto non sa come fare, noi abbiamo chiesto a questo punto un incontro al prefetto, che si terrà credo nei prossimi giorni, anche perché questa è una situazione drammatica, perché è vero che sono 30 famiglie, non sono numeri eclatanti, però in un territorio come questo dove il lavoro non c'è comunque sia un problema ed è una situazione tragica.